Mi piace l'alluce, torvo e nipponico, è un ditone elegantissimo, fatto caro per l'amor. Mi piace l'alluce, è un tipo enigmatico, ha il suo mistero ed il suo fascino, fatto caro per l'amor. Ha una potenza da cavaliere, da samurai, da capo indiano, uno sceicco, un torriador, ma che non parla mai. Ha il suo background, un'atmosfera, forma geometrica, vitalità, credimi è sacro, non frequentato, ma che sensualità. Mi piace l'alluce, sembra antipatico, ma invece è carico di singolare personalità. E c'è l'alluce, l'istante cinico, tu vuoi mettere quanto è charmant. Sento attrazione per quel ditone, ah sì, mi piace assai, assai. Mi piace assai, e tu lo sai, lo sai. Sento attrazione per quel ditone, ah sì. Ah. Grazie. Grazie.